Ho preso in prestito T3 dal mio collega, ma non glielo ho ancora restituito. Sono rimasto sorpreso dalla velocità di foratura nel calcestruzzo e dalla frequenza di battuta in scalpellatura. Bisogna provarlo per capire di cosa parlo. Abbiamo testato il T3 per i fori di ancoraggio delle scaffalature, barriere anticollisione, pannelli, per tutto. È l'attrezzo ideale da aggiungere al nostro contratto fleet management. Questo perforatore è molto maneggevole, l'impugnatura è ergonomica e soprattutto non si scalda. Le performance sono rimaste stabili usandolo 8 ore al giorno, merito anche delle punte ILTI naturalmente. Mi piace molto anche l'asta di profondità regolabile. Si adatta velocemente e non si sposta con le vibrazioni durante il lavoro. Abbiamo molti attrezzi a batteria ILTI, ma ci servono anche i perforatori a cavo, come il T3. È impressionante la forza che ha, sia per forare su calcestruzzo armato, sia per fare piccole demolizioni e tracce. Ed ho trovato molto utile anche la raccoglipolvere, un'ottima idea per ridurre le polveri in cantiere e per proteggere il mandrino.